Emanuela Gennai vi aspetta con il mio canto libero venerdì 22 luglio alle ore 21 e 30. Ospite d'onore della serata Roberto Gorelli, Emanuela Gennai, Benedetta Cinquini, Gloria Meloni e Gianmarco D'Annibale in alto filo spinato. Ci sarà un repertorio che spazia dagli anni 80 fino a quelli attuali. Vi aspettiamo tutti numerosi, giusto? Vi aspettiamo, vi aspettiamo a Piazza Vittorio Emanuele, a Castiglione di Garfania. Vi aspettiamo numerosi. In questa bellissima location. Grazie a tutti. Grazie a tutti.